Musica Lauri, Lauri pallone in avanti a cercare Moroni, Moroni il tiro, subito intervento del portiere, un'occasione per i legionari Prende palla Lauri, avanza con l'esterno, per i compagni di squadra sbaglia, clamorosamente pistolese La seconda occasione è questa per i legionari, arriva a centrocampo, imbucata per l'attaccante che può girarsi e tirare Pallone fuori di Canedi, pochissimo, occasione per il Real lo stesso Non può proprietare ancora l'attaccante, pallone messo in mezzo, deve uscire il portiere Poi ancora il tiro sotto il sette di Lauri che sblocca il match per i legionari Botta fortissima, sotto la traversa, 1-0 Pallone a centrocampo, a Cattoli di nuovo per lui Bella imbucata questa per l'attaccante, che se la divora davanti il portiere Poi prova De Sessa, pallone per i compagni di squadra, De Sessa Pistolese la salva, calcio d'angolo To avanza Moroni, Moroni il tocco per forte, Moroni è portavuota Questa è una grande azione dei legionari che raddoppiano con Moroni 2-0 Deve solo appoggiarla Moroni Forte ancora perde palla a Cattoli La recupera di nuovo, a Cattoli è velocissimo Pallone per il numero 7, la palla in rete Ha segnato Spagnolo che accorcia le distanze per il Real Ospedaletto 1-2 Cattoli La prende in campo a Cattoli, vuole a centrarsi Prova il tiro, palo palo di a Cattoli, clamoroso Lauri Pallone per forte Uno contro uno Forte Gol sbagliato, gol subito 3-1 per i legionari Ha segnato forte Delemaione De Luca, pallone per lui De Luca prova in porta Ci deve mettere ai piedi bruci De Luca con l'esterno Cercare il compagno di squadra La mette in mezzo La palla in rete 3-2 Segnato Giocatore del Real Ospedaletto De Sessa vuole a centrarsi Va De Sessa Prova il destro Ancora Brucci Poi non è finita Brucci ancora, ci mette il piede Tocci, pallone per a Cattoli La prende forte Se ne va in contropiede Due contro uno Tocci Pallone per Lauri Che a porta vuota Non può sbagliare Segna la doppietta personale 4-2 Legionari Doppio passo di Canè Ancora Canè Colpo di tacco A Cattoli Ma che azione di Canè Gran gol di A Cattoli Ma grandissima azione di Canè 3-4 E finisce qui Legionari Battono Real Ospedaletto 4-3 Ciao Posso? Sì Abre Pregio Grazie.